Il pesce sano, il pesce sano, il pesce del Golfo di Catania, stop! Il pesce del Golfo di Catania, e picchi? E picchi perché ci sono tre fiumi che sboccono il mare e ci danno il mangiare, l'acqua dolce, l'acqua di ibbe, il pesce sicuro, l'acqua salata e tutti gli smessamenti, le cose dei fiumi. Guarda, non è che c'è sui fiumi, c'è sui raffineri. E quindi il pesce che viene legato con la siccia non è buono perché mangia dal fondale dove ci sono tutti i detriti. Hai capito, popolo del web, come funziona il pesce? Ora, stavamo parlando di questa notizia. Perché si fa tanto? Cicchi d'anno. Stocco e baccalà sbiancati con calcio. Grazie a notizie. Vuoi sapere il motivo perché... Dicelo che la calcio sia più buona. Dicelo. Come devo prendere l'ambedosa, i cici su tanti, i morozzi su tanti. Perché? Si mangiano i cattoli. Ah, per davvero? Certo. Porca te, allora non è modo di dire. Questo perché? Perché noi andavamo a lavorare. Allora, quando andavamo a lavorare a Portopalo, tutta quella zona là, e allora i cici, tanti, fosciaggiano un tempo di riprodursi. All'ambedosa sono già dei bimbi, sì tanti. Sì, c'è tanti. Perché sono pesci carnivori, in pratica. Certo, i pesci sono tutti... Di conseguenza, persone che annegano e si mangiano i cristiani. La linea blu, una volta hanno fatto vedere, che dentro il rospo di mare le presenta come si era una pescatrice. Scacciavano un canale. Sì, c'era un dito con un anello di un marocchino. Quindi è la prova. L'hanno sequestrato pesce. E tu come lo sai? L'hai visto su linea blu? Ma la linea blu non è che si picchia e ci fa analisi. E risulta organiche. Organismi delle carne umane. Dall'analisi robiccia. Ah, dall'analisi chimica. Ma ci viene per linea blu, biologhi e cose, per studiare. Ma sai che tu per essere pescaiolo comunque... Io ho il diploma di... Ah, hai visto? Perché parli troppo informati. Ho il diploma di analista contabile e segretario d'azienda. Tre anni e cinque anni. A parte questo, nel libretto di navigazione c'hai un titolo di motorista, di capobacco e di capitale. Bellissimo. E ora, per questione di questa mano qua... Facciamola vedere, c'hai l'infortunio? Non è l'infortunio? Un po' migliore è buono. No, vabbè, è normale. Dai, se c'hai comunque il problema. Mi è stato già stavolta. Mi inquadro io, non totalmente. Vedi? Abbiamo... E in incognito... In incognito abbiamo sentito parlare una persona che ne capisce di pesce, che la s'allunga e sa tante cose. Vi saluto. Salutiamo, auguri di buon Natale. Bel passo. Oggi quando ne abbiamo? 22. 22 dicembre 2018.